La Guardia Costiera di Sant'Antioco, nell'ambito del monitoraggio della filiera ittiche di contrasto alle forme illegali della pesca, ieri ha rinvenuto e sequestrato oltre una tonnellata di tonno rosso detenuta illegalmente nella stiva di un peschereccio, con tanto di sanzioni per circa 2.600 euro. La pesca del tonno rosso è sottoposta a piani pluriannali di cattura da parte della Comunità Europea, ricorda l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco per consentirne la regolare riproduzione ed è regolaramentata da quote per ciascuna nazione europea del Mediterraneo, la cui cattura e commercializzazione sono controllate dalla stessa Unione Europea attraverso i militari della Guardia Costiera. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco fa sapere che continuerà a intensificare nei prossimi giorni le operazioni di polizia marittima al fine di garantire il corretto sfruttamento delle risorse ittiche a salvaguardia degli operatori del settore che esercitano l'attività nel rispetto delle norme. La Guardia Costiera inoltre invita i consumatori a prestare la massima attenzione nell'acquisto dei prodotti ittici, evitando di acquistare quelli venduti illecitamente da ambulanti non autorizzati.